Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Sicuramente le ultime abbondanti piogge di questi giorni, ma anche la neve di quelli precedenti hanno intaccato il già precario equilibrio di una zona da sempre a rischio idrogeologico. Stiamo parlando di Pignatale ad Ariano Irpino. Ieri pomeriggio si è verificata una frana che ha provocato il crollo di un alto muro di contenimento insieme a fango e detriti sulla strada. La fortuna ha voluto che al momento dello smottamento non transitassero auto, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. La Polizia Municipale, subito intervenuta sul posto, ha dovuto chiudere il transito con apposita ordinanza. Tra l'altro, muretti più bassi sono già crollati in molti altri punti della strada e si temono ulteriori cedimenti, dunque si rende necessario un importante lavoro di consolidamento dell'intero costone da parte del Comune. Nell'ordinanza si parla di chiusura fino a rimozione del fango e soprattutto dei pezzi di muro crollati. Tutto lascia pensare in tempi lunghi. Via Pignatale è un interpoderale che collega Ariano a Villanova del Battista e a Zungoli. Si tratta di una strada secondaria in una zona rurale, ma con la chiusura non mancano i disagi per tante famiglie, in particolare per quelle che abitano nella zona di Masciano.